In consiglio regionale nella sala Nassiri ha cerimonia di premazione del video spot No Stereotipo Sviluppiamo Parità, che ha raccolto maggiori consenzi e like sulla pagina Facebook della consulta regionale femminile. Hanno partecipato gli studenti universitari di Napoli e Salerno, che hanno aderito al bando regionale con gli allievi dell'Accademia di Belle Arti di Napoli e dell'indirizzo Scienze Umane del Liceo Statale di Napoli-Villari. Il saluto istituzionale della Presidente della consulta, Simona Ricciardelli. Io sono molto orgogliosa, ma il progetto è delle componenti della consulta, c'è una commissione ad hoc e ne parleranno direttamente loro e quello che a me interessa molto è la prospettiva, cioè l'idea di continuare questo progetto, che già quest'anno ci ha dato molte soddisfazioni. In rappresentanza della Presidente D'Amedio, la consigliera Paola Rai ha consegnato il premio. Devo dire una bella iniziativa e grande entusiasmo per i ragazzi. L'idea di mettere questo video sulla pagina della consulta e vedere che anche dopo le votazioni, perché il video ha raggiunto più di 500 voti, quindi 500 like, ma anche dopo la chiusura della votazione hanno continuato a visualizzare i video e addirittura uno di questi ha ottenuto più di 8.000 visualizzazioni. Significa che il tema degli stereotipi è un tema sentito, interessante, un tema sul quale i giovani si sono cimentati e altrettanti giovani hanno sentito il bisogno di guardare, di guardare evidentemente con attenzione e di comprendere che vivere tra generi diversi all'insegna del rispetto è il miglior modo per superare gli stereotipi con i quali interagiamo quotidianamente. Hanno introdotto e coordinato le consigliere della consulta regionale femminile Maria Rosaria Meo e Silvana Tarsitano, relazioni sulla tipologia del concorso e sui risultati ottenuti di Imma Guariniello, responsabile comunicazione e social della consulta regionale femminile. Il video in questione ha ribadito nuovamente il concetto della coppia, uomo e donna, che deve caratterizzare sempre questo nuovo rispolverare di quello che è il superamento dell'identità di genere, senza alcun tipo di distinzione. Sulla nostra pagina web molti video, tra questi 13-14 circa, hanno avuto moltissimi like, ma soprattutto hanno raggiunto addirittura 8-9 mila visualizzazioni. E di questo appunto ne andiamo fieri come consulta, considerando che la pagina ha appena due anni.